Luce e gas in arrivo rincaria a doppia cifra. Non sembra per niente una novità, visto che parliamo sempre di bollette e rialzo dei prezzi, ce ne siamo accorti tutti, non c'è bisogno sicuramente di leggerlo e non c'è forse bisogno di ribadirlo, però cerchiamo di capire insieme in questo nostro approfondimento, nel nostro instant focus, davvero quanto continueremo a pagare di più e soprattutto le motivazioni, visto che comunque il governo ha mantenuto in vigore con il decreto della settimana scorsa l'azzeramento degli oneri di sistema, però pare che stia arrivando questa stangata da 657 Euro a famiglia, che insomma non è proprio pochissimo, visto il periodo di rincaro dei prezzi in generale, peraltro già sarebbe tanto se ci fossero solo rincari sulle bollette di gas e luce, invece dobbiamo fare i conti proprio con un rialzo dei prezzi generalizzato. E allora, saluto Marco Donzelli che è collegato con noi, Codacons, Marco grazie per essere qui, buongiorno. Allora intanto, insomma, è così, arriverà questa stangata da 657 Euro a famiglia? Eh sì, purtroppo la situazione è questa e non c'è via di scampo, stando allo scenario che si è rappresentato in questo periodo. Purtroppo però noi stiamo come consumatore, come Codacons, a puntare dito su una situazione che è veramente vergognosa, perché questi aumenti sono aumenti pre-conflitto, sono aumenti post-Covid, è una situazione che poteva essere orchestrata correttamente, non a danno delle imprese e dei consumatori, perché comunque a farne le spese sono, e soprattutto le imprese o tra i consumatori, perché se dovranno contrarre le loro attività produttive, saranno contratti i consumi, si interranno in una situazione di grossa difficoltà. E perché? Perché non si è attuata una politica economica che noi da tempo con l'associazione di consumatori abbiamo illustrato, la non dipendenza da determinati condizionamenti energetici, il fatto che le speculazioni sul petrolio, su questa denuncia che noi continuiamo, anno dopo anno, a esporre al governo, ai ministri, cioè delle impossibilità di verificare concretamente l'aumento e la diminuzione del costo della benzina sulla base del costo del petrolio al barile, è una cosa che rappresenta un minimo di civiltà, il fatto che il gas si è aumentato così sensibilmente a causa di giochi di risico all'interno dei produttori di gas, condizionando fortemente le imprese di tutto il mondo, il mondo è un'intera famiglia, bisogna aprire una riflessione sul campo economico che va dal di là della speculazione borsistica del costo dell'energia. Il costo dell'energia deve essere contenuto perché è un elemento essenziale per la vita di tutti, così come è essenziale l'uso dell'acqua che deve essere in questo periodo utilizzata e ottimizzata per via della siccità che stiamo vivendo. Un quadro come quello che si delinea oggi nell'ambito dell'economia mondiale è una cosa che pensavamo nel corso del progresso dei rapporti interdistati, nel corso del progresso anche della cultura e della civiltà, non fosse più realizzabile, perché i giacimenti di petrolio e i giacimenti di metano, di gas che noi importiamo, fino ad oggi, fino a ieri erano gli stessi, gli flussi erano gli stessi. Certo è che se noi siamo condizionati dall'attività che viene svolta dal singolo commerciante di gas che aumenta i prezzi o che non li diminuisce in una situazione di normalizzazione, è chiaro che stiamo in una condizione da mega condominiale, e la mega condominiale è una condizione psichiatrica gravissima. Noi sappiamo come le assemblee condominali rappresentino il peggio degli individui durante il loro manifestarsi, ma qui c'è di mezzo la pelle delle persone, c'è di mezzo la vita delle persone e non si può giocare al gioco del condominio, e non si può giocare al gioco di gas che non si può giocare al gioco. di atteggiamenti che tutti noi possiamo avere per quantomeno originare queste spese, anche se poi si spera che le decisioni arrivino dall'alto. Allora, intanto appunto avevamo avuto questi tre mesi di ossigeno con un calo del 10% disposto per il periodo aprile-giugno, però adesso c'è questo trend di crescita. Un balzo della bolletta elettrica del 17%, 48,5 kWh, che per la famiglia Tipo che consuma 2.700 kWh all'anno implica una maggiore spesa su base annuale di 194,4 euro. Peggiori le novità per la bolletta del gas, la tarifa dovrebbe rimbalzare del 27% a 1,57 euro per metro cubo, con una maggiore spesa della famiglia Tipo che consuma, ovviamente sono statistiche, 1.400 m3 l'anno di, pensate, 462 euro su base annuale. E qui appunto, facendo un calcolo, arriviamo ai 657 euro a famiglia di cui parlavamo poco fa. Allora, la decisione finale poi spetterà alla RERA, l'Agenzia per l'energia, che tenterà qualche intervento con l'aiuto del governo. Ma qui non si tratta di tentare qualche intervento, è quello che dicevi prima tu Marco, bisogna agire in modo strutturale. Detto questo, cosa possiamo fare tutti noi per evitare di avere veramente bollette che non possiamo magari neanche pagare? Allora, la prima cosa che dobbiamo considerare è questa. Noi siamo gestiti da un sistema politico inappropriato, incapace, dove le persone che votiamo non hanno la conoscenza, la cultura, ma neanche la possibilità di parlare una lingua diversa dall'italiano quando stiedono a un tavolo internazionale. E questo deve essere importante da valutare quando andiamo a votare. Non possiamo più permetterci, per la nostra pelle, che quando andiamo a votare sia un momento di sfogo personale, ma deve essere la scelta dell'indraulico, del moratore, del fornitore di ricambi per l'auto, che noi andiamo a selezionare dopo un'attenta verifica su Internet e cerchiamo il miglior prodotto. Così dobbiamo cercare il miglior politico quando andiamo a votare. Secondo aspetto, è veramente incredibile che oggi, nel 2022, si debba fare i conti con un'assenza di politica italiana nell'ambito energetico quando tutte le organizzazioni dei consumatori, tutte le persone che si occupano di questo problema, abbiano sempre sottolineato l'indigenza di tutelare l'ambiente, di diversificare le fonti energetiche. Punto terzo e ultimo, è che noi come consumatori, ad oggi non abbiamo altro che il potere di protestare e di farci furbi. Farci furbi, cosa vuol dire? Cercare il miglior contratto energetico di gas possibile, anche con l'aiuto di un'associazione di consumatori come il Codacon. Secondo, risparmiare di più che possiamo, cioè usare meno la macchina, meno il condizionatore, meno il gas, spegnere la luce, e cercare di attuare quei comportamenti virtuosi che non sono più un atteggiamento cool che vogliamo mettere su Facebook, ma un atteggiamento sensato per le nostre tasche e sensato per il mondo. Ecco, bravo. Dobbiamo risparmiare acqua, dobbiamo risparmiare energia e lo possiamo fare riducendo la velocità, andando in macchina con altre persone, spegnendo la pentola, spegnendo la luce, spegnendo la cosa, ma anche come consumatore facendo delle scelte oculate nell'ambito dei contratti e della diversificazione della scelta energetica che noi facciamo tutti i giorni. No, no, certo. Poi, peraltro, per il mondo al di là, allora, prima pensavo a noi, è giusto che sia così, alle nostre tasche e magari poter risparmiare qualcosa. Purtroppo abbiamo visto che l'individuo è un soggetto egoista, siamo tutti molto egoisti, ci sono persone che lo sono di più e altre magari di meno, però l'individuo è egoista. No, diciamo, Marco, sì. Quando viene toccato dal portafoglio incomincia a ragionare. No, 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 esatto, esatto. Infatti stavo dicendo, nell'immediato ovviamente pensiamo alle nostre tasche perché è giusto che sia così, però poi questo ci deve far riflettere a livello più generale, appunto, la famosa emergenza climatica di cui si parla anche in tempi non sospetti e che, come seguo insomma il tuo ragionamento, è un po' snobbata da tutti perché sembra che poi non ci tocchi da vicino. Beh, no, in realtà sì, stiamo vedendo anche quello che sta succedendo adesso con l'acqua, con la siccità e quello che potrebbe comportare, no, per tutti noi. Allora, Marco Donzelli, ci torniamo su questi temi naturalmente perché purtroppo temo che continueranno a essere un'emergenza. Intanto grazie per essere intervenuti. Volentieri e grazie a voi per l'opera di informazione che fate. Grazie, grazie. Ce la mettiamo tutta, insomma, a farlo. Grazie mille Marco Donzelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.